I loro volti campeggiavano lungo il viale principale nel cuore di Tirana. Furono uccisi fra il 1945 e il 1974 dal regime comunista. Saranno beati i 38 martiri albanesi le cui gigantografie diedero il benvenuto al pontefice Pellegrino in Albania domenica 21 settembre 2014. E ieri Francesco ha firmato il decreto che riconosce il martirio dei 38 albanesi uccisi cioè in odium fidei contro la fede che professavano. Ma chi erano questi 38 campioni della fede? Il più noto senza dubbio l'arcivescovo francescano di Durazzo, Monsignor Vincenzo Prennucci. Preferì il carcere e la tortura inflitte dal regime piuttosto che creare una chiesa nazionalista scismatica. Subì 20 anni di carcere duro fino a essere trucidato barbaramente. Nel segno della persecuzione e la sorte degli altri suoi 37 compagni conosciamone solo alcuni di questa schiera come il gesuita Giovanni Fausti. Don Giovanni lo si può considerare un precursore del dialogo fra cristiani e musulmani perché sotto il regime avviò quegli studi tutt'oggi apprezzati che mettono in luce i punti di incontro tra cattolici e islam piuttosto che le divisioni. In quest'ottica fondò la Lega Amici dell'Oriente Islamico per questo arrestato con l'accusa di essere una spia del Vaticano. E che dire di Maria Tucci, la postulante stimmatina appena 22enne, non rivelò il nome dell'uccisore di un politico comunista. Prima i militari abusarono brutalmente di lei, poi la chiusero in un sacco con un gatto inferocito e pestarono entrambi con un bastone. Ci sono anche laici tra i 38 nuovi beati come Ghielo Shlulashi, non aveva nemmeno 20 anni, fu fucilato perché si professava cattolico. Ma ciò non bastò al regime che si accane anche contro la sua famiglia, tutta sterminata perché del loro nome non rimanesse traccia. Da quella pagina oscura della storia, Papa Francesco fu particolarmente toccato durante il viaggio in Albania, tanto da lasciare intravedere l'unica lacrima del suo pontificato dopo la testimonianza di Don Ernest Simoni, ultimo sopravvissuto vivente a quel regime. Per Don Ernest oggi è un giorno speciale.